ecco il tiro sentiamo se c'è il mister dell'Ellas Berona buongiorno Del Neri oh eccolo buongiorno mister scusi l'attesa ma insomma c'era figura te tanto ero qua cosa stava facendo? stavo pensando a formazione eh in effetti guardi leggo proprio qua lei ha dichiarato ieri punti vitali mancano recupera Pisano e Albertazzi però mancano Toni, Romulo, Viviani, Supraien anche Gollini insomma non è proprio un bel periodo eh no no vada devo dire la verità però però non ci attacchiamo non ci attacchiamo infortuni bravo questo nostro pensiero questo nostro pensiero dobbiamo però per forza insomma mettere in campo anche perché anche perché in queste partite insomma sì è un po' di qualità un po' di qualità sì vabbè magari servirebbe la partita con la Roma con la Roma sì con la Roma e con la Roma no con la Roma che gasto caffè che stavo bello ma però 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 la partita con la Roma sì ha fatto fiducia ha fatto un po' morale 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 sì avete giocato e questo è il nostro pensiero è questo è il nostro pensiero è andare avanti così ma anche le nostre qualità le nostre qualità è un'idea di gioco cambiare in costa possiamo cambiare anche in costa no? anche in costa perché insomma abbiamo degli interpreti sì interpreti hanno hanno trovato la collocazione sì eh beh quello è stato bravo mi piace che manca a Gordini un ragazzo che stava stava facendo anche bene abbastanza bene abbastanza bene poi insomma ho avuto questa contusione a spalla sì a spalla però insomma giocare a coppola ecco infatti questa è un po' no la disquisizione sui portieri il povero Raffa il Raffa sì Raffa è importante è importante per la squadra sì però ha fatto una cagata no capiamo oh ha così il nome è che mi viene in mente allora allora insomma sì ma l'ha visto ovviamente eh insomma hai detto dai volevo dire volevo dire cioè ho capito quindi tu lo vuoi dire voi però hai detto poi mi ha fatto c'è l'etoriale no no ok sì 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 ok grazie anche perché ho anche perché ho potuto pughi no è caglio così e questo è il nostro pensiero lei ogni volta dice il nostro pensiero ma secondo me dopo te pughi dopo te pughi e certi errori certi errori poi e questo è il nostro pensiero però qualche frecciatina qualche suo giocatore insomma anche Jankovic non l'aveva trattato bene in conferenza stampa e di fatto è fatalità ma perché Jankovic è un succor no ti ho vedi tu vedi tu testa bassa testa bassa è un carattere un po' schifo testa bassa però 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 di tanto fa cavallo che fa cavallo un po' il fiato sì allora insomma finché finché non è pronto finché non assimilirà non assimilirà i schemi schemi di gioco del nostro pensiero cioè del suo del gioco questo è il nostro pensiero eccolo immaginavo eccolo lì intanto non gioca quindi vedremo ho capito vedremo stiamo cercando anche sul mercato eh infatti che abbia che abbia certe qualità di gioco basta Mancini basta Mancini ma non Mancini allenatore sì no Mancini allenatore giocatore giocatore ah ecco Mancini o in piedi no in piedi ah basta Mancini ok sì sì ma tutti tutti sinistri eh vero è vero è vero insomma è una parte è un po' di un'altra parte è un problema in effetti va bene va bene grazie grazie mister grazie mister del neri grazie a te